Siamo qui. Allora, cercherò di fare una disamina veloce, illustrando prima di tutto l'idea, come ha fatto l'assessore all'ambiente, che muove il progetto sulla fuoriscita dai campi dei Rom e sull'integrazione sociale delle popolazioni rom-sinti e camminanti. Dunque, l'idea è quella dell'antisegregazione di queste popolazioni e quindi del non individuare un luogo di rifugio su base etnica che riguarda soltanto delle popolazioni. Questo è un ragionamento assolutamente da superare, che però è quello che abbiamo trovato. Quindi ci siamo rifatti a quelle che sono le raccomandazioni del Parlamento europeo del 2010 sulla strategia Rom-sinti e camminanti che è poi stata trasfusa all'interno della strategia nazionale Rom-sinti e camminanti. Questa strategia prevede la fuoriscita dai campi attraverso l'integrazione sociale e attraverso l'utilizzo di quattro assi di particolarmente abitare, scuola, lavoro e sanità. Di fronte a questi quattro assi abbiamo costruito una pianificazione. Quindi abbiamo costruito attraverso questa amministrazione, attraverso una memoria di giunta del 18 novembre del 2016, ha costruito il percorso. Un percorso che la prima parte è di pianificazione e la seconda parte è di attuazione o operativa. Adesso abbiamo superato la parte di pianificazione e adesso siamo entrati nella fase operativa. La parte di pianificazione ha visto la Costituzione con delibera 117 del 16 dicembre 2016 del tavolo Rom-sinti e camminanti che è il tavolo in base al quale, anche in base a quelle che sono le indicazioni della strategia, deve essere valutata tutto il percorso per la fuoriscita dei campi. Sono stati fatti attraverso diversi incontri, ovviamente circa 30 incontri, anche con le associazioni segnalate dall'UNAR e attraverso anche tutti i municipi e tutti gli stakeholder istituzionali. Di fronte a questo modo in tre mesi abbiamo elaborato, dalla delibera del dicembre, abbiamo individuato e predisposto un piano definitivo, un piano definitivo che è stato rimesso anche quello in valutazione e poi è stato trasfuso all'interno del piano allegato alla delibera 105 del 2017. Questa delibera del 2017 approva al 26 maggio il piano di indirizzo per l'inclusione delle popolazioni Rom-sinti e camminanti. In questo piano, che sono circa più di 50 pagine, facciamo tutto quello che occorre fare per superare il campo e per arrivare all'integrazione. Questa parte della pianificazione quindi si è arricchita con un'altra modifica, queste sono del 28 giugno 2017 con la delibera 146, a questa di giunta capitolina, che ha modificato il piano per arricchirlo anche dei tavoli municipali come ulteriore strumento operativo per arrivare alla fuoriuscita dal campo attraverso l'integrazione. Su questo apro una parentesi per rispondere a alcune domande che sono state fatte dagli onorevoli, alcune in particolare dall'onorevole Saltamartini che ha parlato di mercatini di seconda mano. I mercatini di seconda mano nella delibera 105, cioè il piano di indirizzo, sono espressamente vietati al paragrafo 1.2.10 della delibera, quindi questo per rassicurare. Si parla invece di promozione di attività di artigianato proprio, con le proprie capacità, quello sicuramente sì. Invece per quanto riguarda altri argomenti che riguardano per esempio le assegnazioni di case, come veniva detto dall'onorevole Ampelli, non sono possibili perché sono soltanto misure di sostegno all'abitare che hanno altre nature, si connettono alla registrazione di un contratto d'affitto che deve essere comunque registrato, presentato ed è un contributo qualora il soggetto non ricada nelle esclusioni. Nelle esclusioni che sono ben delineate all'interno del piano, che sono soggetti che risultano, che hanno beni immobili e diritto di proprietà, superficie o soffrutto di beni immobili in Italia o all'estero. Infatti sono state attivate tutte le attività e gli accordi con la Guardia di Finanza per arrivare anche a uno scritto nazionale e internazionale delle ricchezze di coloro che vorranno partecipare su base ovviamente volontaria a questo piano. Risultino assegnatari di alloggi edilizia residenziale pubblica, anche questi non potranno partecipare non potranno partecipare al piano neanche coloro che abbiano la titolarità al possesso di beni immobili di lusso quindi beni immobili anche registrati come macchine, ma anche beni immobili gioielli o altro modo che in qualche modo siano considerati di lusso. Abbiano la titolarità di conti correnti, depositi bancari, titoli e altri componenti del patrimonio mobiliare per un valore pari, quindi anche beni di lusso mobiliare pari o superiore a 10.000 euro abbiano sottoscritto il patto di responsabilità che è una parte importante quindi se non lo sottoscrivono il patto di responsabilità loro non possono partecipare a queste iniziative che è un patto di responsabilità che devono ad esempio obbligarsi a mandare i figli a scuola alla scolarizzazione ai figli, a seguire un certo percorso anche lavorativo e sono anche molte iniziative che possono essere in qualche modo messe in rete con quelle del SIA dell'ex SIA almeno. Per quanto poi riguarda il patto, ovviamente se loro dovessero non rispettare il patto di responsabilità avrebbero meno tutte queste misure di sostegno. Quindi questo è l'indirizzo nel quale si muove la pianificazione una pianificazione che si muove in particolare per due campi dei famosi 19 lo sapete sono 19 campi tra tollerati e legalizzati ma questi si riguarda in particolarmente i 9 che sono stati in qualche modo riconosciuti e questi sono quelli che sono oggetto anche diverse indagini della magistratura e che in qualche modo danno anche molti problemi su tutti i profili. Però per quanto riguarda la gestione della fuoriuscita da questi campi si inizierà da quelli del Pone e della Barbuta e di Monachina. La Barbuta vicino Ciampino è un campo di circa 800 persone che comporta la necessità di un approccio molto sistemico perché altrimenti non è possibile la fuoriuscita da un campo così esteso ma comunque il piano prevede con finanziamenti Pommetro la fuoriuscita da quel campo e anche quello della Monachina sono stati individuati perché questi? Perché sono stati individuati sulla base di azioni giudiziarie Tribunale Ordinario Civile di Roma che hanno dato indicazioni in questo senso. Quindi la Barbuta e la Monachina con finanziamenti Pommetro quindi i finanziamenti europei sono 3 milioni e 800 mila euro e questi finanziamenti del Pommetro sono esclusivamente destinati alla strategia per la fuoriuscita dai campi quindi sono esclusivamente destinati a questa finalità altrimenti non possono essere utilizzati e sono delle misure che hanno un termine massimo di 24 mesi e quindi comunque devono essere poi rindicontati all'Unione Europea e quindi devono essere assolutamente banditi in maniera coerente con quelle che sono le indicazioni della Commissione. Questo, come vi dicevo prima, questa è la pianificazione. Siamo entrati nella fase attuativa dal 30 maggio perché abbiamo fatto il primo affidamento per il Camping River che è un altro campo che si è aggiunto a quelli precedentemente detti per ragioni di urgenza e quindi al 30 maggio c'è stato il primo affidamento e al 3 luglio è stato pubblicato il bando Pommetro quindi per la fuoriuscita dal campo della Barbuta e della Monachina quindi ovviamente per reperire soggetti che dovranno aiutare nell'attuazione del piano appunto queste 50 pagine di azioni da fare su questi quattro assi come vi ho detto salute, scolarizzazione, lavoro, abitare e dovranno essere attuati entro, adesso quindi ci sarà il bando il bando è stato pubblicato, aspettiamo poi l'esito del bando per le assegnazioni. Altro elemento attuativo perché appunto al 30 giugno si è cominciato con questa scaletta di attività pressanti proprio per l'urgenza di questa situazione ereditata dal passato quindi al 3 luglio primo affidamento, al 4 luglio pubblicazione del bando al 4 luglio ordinanza 102 è stato istituito l'ufficio speciale per Rom, Sinti e Caminanti è proprio un ufficio di scopo che quindi seguirà l'attuazione passo passo operativa di questo tipo di operazione che è quella operativa più complessa cioè non solo lo sgombero ma cioè poi che fino fanno i moduli come vanno smaltiti, dove vanno mandiviati, le bonifiche successive l'utilizzo successivo di quell'area perché può essere rinaturalizzata se è possibile o altrimenti utilizzata per altri fini quindi dovrà essere fatta tutta un'operazione di concerto forte con tutti i soggetti e gli stakeholder. Quindi l'ultima domanda che è stata, mi sembra che ho appuntato se ce ne sono altre siamo qua è quella dell'onorevole Pisa, Piso su Via Salviati Via Salviati è stato, ieri si è riunita per la prima volta la commissione di aggiudicazione del Simu quindi del Dipartimento delle Opere Pubbliche del Roma Capitale per quanto riguarda la gara per l'accordo di programma per gli interventi sui campi. Ovviamente il Dipartimento Politiche e Sociali su questo ha un rapporto dialettico e per cui poi alla fine saranno ovviamente il Dipartimento Simu che potrà fare questo tipo di opere una volta che saranno sviluppate le opere le prime cose da fare infatti sono all'interno dell'accordo di programma la messa a norma anche sotto profilo elettrico e per quanto riguarda gli sgomberi, per quanto riguarda le opere, la disostruzione delle fogne che sono una cosa incredibile perché devono essere fatte il primo intervento evidentemente sarà tra quelli ci viene segnalato Via Salviati per le sue emergenze molto forti, molto avvertite il Simu interviene facendo la gara il soggetto dovrà disostruire tutte le caditoie tutte le fognature, rimettere il depuratore in funzione per quanto riguarda o perlomeno controllarne il corretto funzionamento dopodiché anche il discorso dei lavori per l'impianto elettrico che è veramente qualcosa di particolare ma comunque riguarda tutti i campi e non è soltanto Salviati ma Salviati ci viene segnalato come particolare urgenza quindi appena noi poi per quanto riguarda e questo lo dico all'atere per quanto riguarda la scolarizzazione stiamo lavorando moltissimo su il progetto Scuole Aperte per cercare di dare una contro l'espressione scolastica in generale dare un presidio al territorio soprattutto nelle periferie perché la scuola rappresenta spesso un fortino all'interno di certe realtà tenerla aperta anche il pomeriggio diventa una ricchezza quindi abbiamo finanziato con 300.000 euro l'apertura da qui a settembre e stiamo partecipando al bando ministeriale per il bon inclusione al fine di utilizzare le scuole nel pomeriggio durante tutto l'arco dell'anno soprattutto per quelle scuole che sono limitrofe ai campi i cosiddetti villaggi della solidarietà di antica memoria che sono 11 scuole quindi su questo stiamo lavorando e speriamo bene di avere anche un po' di aumenti di questi fondi in modo da poter implementare le iniziative a favore della scolarizzazione non solo dei rom ma anche in generale contro l'espressione scolastica di Responsabile